Lo sportello europeo, occasione di sviluppo per il territorio. Lo sportello europeo, questo sportello europeo, è una realizzazione, una creatura per così dire, dell'associazione Stella Maris. Siamo in compagnia di Gianna Cavallo, che è la responsabile del settore pari opportunità e servizi sociali. In un momento di estrema crisi, quale è quello che vive l'area ionica, c'è l'imprescindibile necessità di intercettare ogni possibile forma di finanziamento e quindi anche attingere ai fondi europei. In questa ottica e in questa direzione la realizzazione, la nascita di questo sportello europeo. Grazie Luigi, hai presentato proprio in maniera egregia l'intento, l'iniziativa dell'associazione Stella Maris. L'idea nasce mesi fa, quando a Roma con l'onorevole Lorenzo Cesa ci siamo incontrati e parlavamo delle necessità del nostro territorio. E quindi c'è stata immediatamente la sua disponibilità e quindi la disponibilità del gruppo del Partito Popolare Europeo affinché questo sportello possa essere istituito sul nostro territorio. Abbiamo avuto immediatamente la disponibilità, grazie al presidente della provincia Tamburrano, di avere dei locali presso la provincia. E quindi non poteva cominciare in maniera insomma migliore questa proposta. La proposta poi nasce e cade proprio ad hoc in un periodo in cui abbiamo potuto appurare anche dei fatti di cronaca leggendo il giornale quanto l'amministrazione comunale per esempio di Taranto non sia stata capace all'altezza di andare a captare, quindi portare sul territorio risorse che la comunità europea mette a disposizione del mezzogiorno della regione Puglia e che abbiamo pochissimo tempo per poter essere poi effettivamente operativi. Proprio perché entriamo nel programma Horizon 2014-2020. Quindi l'invito che l'associazione Stella Maris fa al territorio è che tutte le migliori energie, tutte le migliori intelligenze... Con professionalità? Certo, con professionalità anche perché la comunità europea è molto fiscale, cioè non ci può essere improvvisazione. Noi in maniera molto umile abbiamo lanciato la proposta. Gestiremo questo sportello ma che sarà portato avanti poi da tecnici e professionisti all'altezza che abbiamo avuto anche già riscontro perché abbiamo avuto già una serie anche di contatti.